Prendessi cura, primi passi, rispetto delle identità per un bene comune. Inizia così il percorso espositivo che sino al 21 aprile prossimo è ospitato nella chiesa di San Giorgetto. Una mostra che racconta attraverso gli scatti di Federica Calò l'impegno, i risultati, le speranze di chi si affida ai volontari di Fevos. La realtà che dal 1987 è impegnata a dare vita con l'azione gratuita dei suoi volontari ad una serie di servizi verso chi ha bisogno nel rispetto della loro dignità e diversità. Ci troviamo in un momento storico particolarmente difficile ed è facile essere preda appunto del pessimismo. Queste immagini servono ad indicare invece non tanto l'opera dei volontari, quanto che ogni cittadino può esprimere solidarietà. Se si fa prossimo col più vicino che è in difficoltà, se si fa attento ai bisogni della natura, se in qualche misura si assume la responsabilità del proprio vivere civile. Quanto la Fevos sta facendo per la solidarietà? Certamente da una fase di spontaneismo, io la chiamo così, bisogna giungere a un momento più dinamico e moderno di fare attività per gli altri. E soprattutto formandosi questo si fa. Allora, lo scoprire che i gesti di solidarietà hanno bisogno non solo di conferma, ma anche, voglio dire, di maggiore professionalità, questo è un obiettivo che ci siamo posti. L'esposizione realizzata da Fevos in collaborazione con l'Associazione Rivela e con il contributo del Centro per il Servizio del Volontariato è uno dei tanti eventi proposti, in programma concerti, incontri formativi, proiezioni di film, nei quali il comune denominatore è lo spirito solidale. È necessaria la formazione proprio per potersi inserire in una società complessa, dai bisogni complessi, e dove le persone che i volontari assistono hanno anche delle problematiche che necessariamente esigono una preparazione. Ecco, sono tre i momenti più importanti della formazione. È un corso di formazione per i volontari che inizia martedì alle 5 ed è tenuto da esperti dall'Associazione Confini Online. Poi una serie di conferenze che affrontano i problemi della società contemporanea. Poi ci sono anche altri corsi, c'è una rassegna di film sulla solidarietà, ideata e progettata da Ugo Grisoporco, che è rivolta ai bambini e anche agli adulti.